ciao ragazze ciao a tutte e tutti come state spero bene allora nuovo video che riccio anche oggi dunque oggi non ho fatto granché perché purtroppo ieri non sono stata bene però ho fatto una lunga passeggiata e poi sono andata con una amica a fare delle cosine insomma anche che era un po con la mia amica quindi nulla praticamente sono stata in giro per fare delle commissioni poi me ne sono andata a casa e niente adesso sono rientrata a casa da un quattro oretta circa sarà stata l'una quando ero rientrata a casa si tolgo gli occhiali perché mi sembrava così forse gli occhiali perdonatemi se vedete con gli occhiali ma non mi va di truccarmi cioè sono già truccata qui su ma il corretto non me lo metto comunque passatemela per oggi anche perché non sto molto bene nel senso che oggi sto bene ma anzi oggi diciamo la verità sto meglio sono un po meglio di ieri se mi chiederete anzi se vi state se vi sareste chiedendo cosa c'ho allora non una di grave ovvero mi è arrivato il marchese come suol dire sarebbe dire che c'ho ciclo e quindi ero perché ero per quello che io non riuscivo a fare niente ero fiacca molto fiacca molto giù di morale molto conosco gente che sa pure sino l'ora quando arriva il giorno io invece non sono così quindi non mi organizzo io quando arriva il marchese quindi vabbè non commento ed è per quello che ieri stavo malissimo non avevo grinta nulla di nulla e quindi mi sono lasciata andare dovevo fare un paio di video ma non ce l'ho fatta quindi al diavolo i video e niente di fatto no perché non volessi farne perché proprio non ce la facevo ragazze ero a dolori addominali schiena tutto che ho basta quello che avevo mal di testa e che più ne ha più ne mette ragazzi si sa come va il marchese il palloncino rosso e quindi ho detto vabbè per oggi ma come va mi riposo un po su youtube oppure addirittura guardavo la tele più semplice mi guardavo la tele perché la verità stavo guardando la tv tra tv e youtube vabbè possiamo perdere perché mi piace sempre stare attaccata a guardare la televisione oltre che youtube e nulla quindi me la sono andata lì a fare a fare un po la come si può dire a niente me la sono un po goduta senza fare altro niente così ho fatto una svegliata tutta quanta perché di sera che mi è venuta questa cosa e che dirvi adesso come stai adesso sto meglio e quindi sto tanto questa cosa la devo tagliare perché non è bello dire quello che ho appena detto sembra che poi magari altre persone capiscono aglio per cipolla non è così quindi no quindi no cosa ti riferisci a quella parola che non mi devo solo ripetere quindi no quelle parole non la ripeto ragazzi bello del bello dire quello che si vuole dire senza troppo andare nel privato quindi migliorno non no perché ho detto una fesseria la taglierò perché non mi piace dire questi ragazzi sono fatta così oddio che che razza di vedete che occhiaie che è un nere perché sono andata a dare il colline che io metto oltre che il mascara che mi fa questa cosa vedete durato sto video 5 minuti e mezzo ma neanche anche in 5 minuti e niente ragazze io adesso non so se continuare col video blog che crescio oppure se raga secondo me è meglio che adesso chiudo perché tra l'altro poi voglio fare altri video ma non li farò subito mi prendo un poco un pochettino di più di pausa e poi ci vediamo un altro momento che ragazze mi piace fare questi video piccoli piccoli prima le faccio troppo lunghi adesso le faccio corti e non bene non mi sembra non mi sembra che mi basta mai non a voi a me le fare più lunghe ma più lunghi non penso che li guardate ma io li guardo i vostri perché sono davvero lunghi e mi piacciono i video lunghi voi direte come non ti piacciono i video lunghi sì che mi piacciono certo mi piacciono i video lunghi molto lunghi io li guardo anche fino a mezzanotte sì non è un segreto ma non lo so non guardo i video fino a mezzanotte adesso siccome che quando non sto bene dormo perché ho bisogno di dormire e se no quando voglio proprio guardare video picciate allo schermo guardo i video fino a mezzanotte non sto scherzando dico la verità vedrete ma poi meglio dormire è vero avete ragione ma quando non ho proprio sonno guardo i video fino a mezzanotte non mi chiede di vedere horror perché non ne guardo ho troppo paura però guardo i video belli guardo i video di make up blog quello che però basta che li guardo e niente se mi chiedete gli achioli dove sono sono qua sono poggiati qua vicino la la mia pochette di di trucchi e niente questo era tutto quindi che dire ragazze non mi ricordo più vabbè casomai fare una live lunga 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 e vi metto la live un po lunghetta non so neanche se me la riesce a elaborare la live youtube perché altrimenti c'è messo un secolo a elaborare la live quindi a rielaborare come si diceva lo so comunque a esaminarmela e quindi non ne ho idea cioè perché youtube a volte è un po' forbetto un po' eh eh già e niente quindi quindi basta ragazze io vi saluto nel frattempo prima di aprire il video di registrare con questa pezzetta qui sta pezzetta qua da questo bottiglietta qua per pulire gli occhiali ho pulito lo specchietto come si dice il display del telefono che tra l'altro mi è caduto e si è rotto il telefono non è che si è rotto più che altro mi è sì mi è scivolato alle mani si è rotto il display lo dovrei portare a giustare perché non come si dice non non so come è successo ma mi è caduto e basta vabbè ragazzi io voglio saltarvi qua e nel frattempo ci vediamo in un altro momento ah mettete un bel like di supporto un commentino e iscrivetevi al canale ciao e attivate la campanella ciao ciao